Ok, sì, sì, parli oltre. Cari fratelli, pace e misericordia. Mi chiamo Fratelloni e vi parlo dalla casa di Gesù Convinente. Sento nel cuore di mandarvi gli auguri per un giusto riposo di queste feste annuali. E il primo saluto desidero inviarlo a Sua Santità, Papa Francesco, il nostro amato Cardinale Crescenzio Seppe, a tutti i Vespori, le autorità ecclesiane e a voi devoti della Divina Misericordia. Ovunque andrete, ricordatevi sempre che vi seguono i cuori di Gesù e Maria, una ripiediera reciproca, un invito anche a seguire questo cammino del Movimento Divina Misericordia fondato da Fratelli Toni e Fratello Rosario da 1987 ad oggi, cui abbiamo divulgato questo culto in 17 lingue, fondando naturalmente la Chiesa domestica, fondando verso il culto della Divina Misericordia in 17 lingue, divulgandolo nel mondo, soprattutto quello di formare la Chiesa domestica, portandolo nelle famiglie, la presenza mariana e naturalmente anche l'esempio di Santo Vangelo. Ma ormai non abbiamo mai smesso di essere sensibili di essere questi fratelli extracomunitari in cui tendiamo i nostri membri, li portiamo da mangiare, da vestire e soprattutto preghiamo anche per loro. Di nuovo tanti auguri per questo giusto riporso annuale. Vi chiedo anche di seguirci attraverso i mezzi di comunicazione con Facebook, Youtube e quindi probabilmente basta digitare Fratelli Toni per stare insieme e vivere insieme la bellezza. Vivere insieme. Per ritrovarci poi nell'amore di Gesù. Un saluto a tutti.